Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Malesia, sto girando in moto e la strada che sto percorrendo passa in mezzo alla giungla, è uno spettacolo veramente entusiasmante. Ecco vi mostro le immagini, questo è quanto ho io davanti agli occhi, un paesaggio incredibile, bellissimo, qui c'è stata qualche devastazione, abbiamo tutta una serie di alberi rinsecchiti, probabilmente c'è stato un incendio, ora andiamo avanti, è un continuo saliscendi, qui sembra veramente di stare sulle montagne russe, guardate, incredibile, vi faccio vedere i paesaggi da quei lati e questo paesaggio si rincorre per centinaia di chilometri, abbiamo strade più o meno belle, vi devo dire una cosa, le strade in Malesia sono molto meglio di quanto mi aspettassi, io sono abituato a viaggiare in posti isolati in mezzo alle foreste, per cui so che generalmente le condizioni del manto stradale non sono queste, qui in Malesia devo dire che anche le strade più piccole come questa, che non è utilizzata da nessuno perché non incontro altra gente qua, non c'è nessuno, sono sorprendentemente tenute bene, è uno sale e scendi, bellissimo, questa è la mia moto scassata e continuiamo questo stupendo viaggio, chiaramente giunto al capolinea, continuerò con altri me, continuerò a piedi probabilmente, sono alle cerca dei villaggi autotoni, sono alle ricerche della gente, del luogo, eccoci qua, il viaggio continua, guardate un paesaggio veramente bellissimo, ecco qui abbiamo un salitone, prendiamo la rincorsa, se no la mia moto non ce la fa, ecco siamo su un'altura che sovrasta tutta la zona, qui c'è una specie di precipizio, ovvero si scende, scaliamo, scaliamo, se no qua la moto non ce la fa un'altra volta, ecco qua, Ok ragazzi, continuate a seguire le mie entusiasmanti puntate, ditela do io la Malesia e ci sentiamo alla prossima, ciao!